La tecnica migliore, soprattutto in tempo di pace, dove fortunatamente noi viviamo, per sottrarre informazioni, sottrarre il know-how delle nostre aziende e soprattutto sottrarre le capacità di sviluppo di prodotti all'avanguardia dalle nostre piccole e medie imprese, che non dobbiamo dimenticarlo rappresentano più del 99% del nostro substrato economico. Dobbiamo difenderci, dobbiamo essere consapevoli che questa è una minaccia, non soltanto dai nostri concorrenti, ma anche dai governi, che sottraggono le informazioni e le cedono alle aziende concorrenti a livello europeo e a livello mondiale, perché Internet interconnettendoci permette anche questo, purtroppo, oltre a tutte le altre cose positive che Internet comporta.